L'automazione fa paura, le grandi macchine che fanno tante cose difficili e complesse che ruberanno tutta la nostra anima fanno paura. Soprattutto quando un certo tizio miliardario ha fatto un robot che serve per svolgere lavori pesanti e noiosi ma che ha un sistema per cui è possibile fuggire da esso. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Io sono Bruno e parliamo di automazione. Tutto questo perché ho visto di recente che Tesla ha lanciato TeslaBot, un robot umanoide alto tipo 1,75 m che pesa tipo 60 kg e trasporterebbe carichi da 20 kg l'una e può sollevare tipo fino a 70 kg e raggiunge una roba tipo 10 km all'ora camminando. Perché servirà per eliminare tutti quei compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi che non ci piacciono. Parole di Elon Musk. Praticamente al IA Day di Tesla, che è il giorno dedicato all'intelligenza artificiale, Elon Musk aveva mostrato questo robottone qui dicendo che avrà la faccia più empatica in modo tale da non essere così strano e fuori dal mondo e che per non essere pericoloso lo ha fatto andare massimo a 10 km all'ora e non ha poi così tanta forza. Perché così si può scappare meglio. Ora potremmo fare della facile ironia su quanto sia spassoso che sia nei film di fantascienza dove i robot diventano coscienti e ci rubano tutto, sia nella realtà si sta dicendo che è meglio che abbiano una faccia più empatica per non mettere paura. E' molto ironico il fatto che Musk sia lo stesso che vuole bombardare Marte per terraformarlo. Cioè, sono tutte cose molto da cattivo. Però Tesla ha riaperto il tema della preoccupazione che la macchina ci rubi il lavoro. Perché è appurato. Grazie all'industria 4.0, ora tutte quelle mansioni di magazzineria per i magazzinieri di bassa manovalanza, diciamo così, saranno lentamente sostituiti da robot. Già adesso succede, però ci sono ancora i magazzineri che vanno in giro col carrello. Certo, in alcuni magazzini il magazzinerio è sostituito da un robot e gli occhi del robot da guardare i chip all'interno delle scatole per capire che scatole sono. Cioè, paradossalmente, quando voi comprate una maglietta, avete un chip che fa bip bip quando uscite. Quello è la stessa tecnologia che permette ai robot di riconoscere dove stanno messi i cavi di Teflon, dove stanno messi i telefoni OnePlus 5. E quindi il robot va lì e in base al GPS interno del magazzino riesce a prenderli su. E non fa niente nessun umano, se non configurare la mattina le cose accendendo internet interno. Però a tutti questi lavori, sempre di più, si vuole lasciarli fare le macchine. I lavori pesanti e scomodi, soprattutto nella logistica, si tende a farli fare a C3PO. Che almeno se si rompe, sia giusta. Che almeno non deve andare in bagno. Che almeno non deve fare rivolte sindacali. Cosa che in America, dove tutto sta diventando sempre più palese, questo è un problema. E se fino a qualche anno fa, nel film della fabbrica di cioccolato, potevamo prenderlo con ironia e dire ha 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 ha, poveri scemi, adesso questa cosa è vera e ci preoccupa. Però questo è il trend, eh. C'è l'automazione, la nuova industria. Sta andando lì. E tra un po' i lavori pesanti saranno fatti da Tesla Bot. O il suo amico, Google Bot. E Android Bot. Che l'hanno chiamato un Android Bot, quindi non gli puoi dire niente che si offende come quelli che si chiamano Franco Francesco Antonio. Che cavolo, potevi scegliere un nome più cacofonico, già che c'eri, no? No. Oppure Rosa Rossi. Ma che cavolo di nome è? Potevi scegliere un nome più fico, invece no. Sei un genitore simpatico e che schifo. E questa è la parte positiva della tecnologia. E avere paura che possano ribellarsi queste macchine è praticamente come avere paura che il microonde ti guardi storto. Beh, può essere, però magari perché hai segnato 18.05 e hai pensato che fosse un sguardo storto. Ma allo stato attuale non esistono intelligenze artificiali così potenti da permettere di avere una ribellione. Ora, io vi lascio in descrizione e in sovrimpressione su YouTube il video sulle intelligenze artificiali perché è così giusto che capiate. Ma per farla semplice, un'intelligenza artificiale è una roba a cui tu dai dei dati in ingresso e ti restituisce cose che non puoi conoscere. Un algoritmo invece, se tu gli dai sempre gli stessi dati, ti ridarà sempre gli stessi risultati. È deterministico. 3 più 3 fa sempre 6. Ma per un'intelligenza artificiale, se tu gli dai 3 e 3, ti può dire sono lo stesso numero. La loro somma è 6. Probabilmente il numero successivo di questa sequenza è 3. Poi dipende ovviamente da cosa ha bisogno di fare questa intelligenza, ma tanto per capirci. Davvero in quella puntata ne parlo molto bene, quindi ti invito caldamente ad andare ad ascoltarla anche se è vecchio di due anni e l'audio era pessimo. Noi non riusciamo neanche a capire come sono fatte queste intelligenze. Quindi concepire un'intelligenza che abbia coscienza di sé è qualcosa di veramente complesso, anche solo per degli ingegneri che lavorano a Google. Quindi non c'è alcun pericolo che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo della macchina che ti porta il caffè e possa versarti il caffè male addosso o che possa conquistarti il telefono e governare tipo i mici contro le macchine. È una cosa che non è al momento, al momento, al momento, qualcosa di verosimile. Quindi sì, ok, le macchine stanno andando sempre più a sostituire le persone poco scolarizzate e queste persone rimangono senza lavoro ed è brutto. Però è meglio sfruttare una macchina 24 ore al giorno che due dipendenti 12 ore al giorno che poi torneranno a casa arrabbiati, picchieranno la moglie. Poi la moglie comincerà a inculcarsi l'idea di essere sbagliata, i figli cresceranno in una famiglia disfunzionale, aumenterà il bullismo nelle scuole perché i figli di operai bullizzeranno quelli più ricchi, quindi si creerà ancora più del classismo e andrà ad aumentare. Perché? Perché qualcuno ha pensato bene che invece che usare un robot, è meglio usare due persone che hanno sentimenti. Perché almeno i robot non hanno sentimenti. Quindi, siano adatta all'automazione, viva l'automazione, non ci preoccupiamo di niente. A parte per quella cosa, chi paga i robot, come funziona e se succede qualcosa al robot che guida la macchina, come... ok, quelli sono beghi legali. Viva l'automazione. E niente, questo era quello che ho avuto a dirvi per oggi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Nel caso, io vi invito a seguirmi sui vari social, Telegram, Instagram, se volete sono anche su TikTok, ma le cose giovani non le capisco. E detto questo, se avete qualcosa da dire, non esitate a farlo qui sotto nei commenti su YouTube. E quindi, per chiudere, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata.